Non pensate a niente, svuotate la vostra, adesso cercate di ispirare, come se raccogliesse una foto, e pensate al testo chakra, respirare. Sto su un altro piano, canastrale, rovescio il piano piramidale, lo spazio è tempo, qui non vale, sogniamo in cento in un bilocale, se mi guardo, sembro zitto, ma ti parlo a frequenze basse, io ti giuro che il rigo dritto è tutto il resto che è fuori asse. Ci sto dentro ragazzi, un talento agassi, suoni vecchio sei fuori, tempo forse è il momento di algasi, caso umano, il resto annoia come califano, più tappeti che un califato, i miei fratelli al ser con calissano. Supero i 40 gradi come Abu Dhabi, mi torturi con quest'ansia come Abu Dhabi, voglio l'or nella cassa come Abu Dhabi, tornerò alla mia galassia come gli annunati. Già le chiavi del tempio, devi soltanto provare ad aprirlo, non prendermi mai come esempio, non scegliere mai il mio consiglio, io non credo, io sento, io vedo, oggi dichiaro, domani rinnego, tutto si muove, salam alaikum, rischio nel tempo di un eco. Ed ecco...